Mi sto preparando come al solito con il massimo della professionalità, spero di arrivare al 1000% della forma e vincere il migliorio. Adesso sono tranquillo, non ci sto pensando all'incontro, sto pensando più alla preparazione, sto pensando più ad allenarmi, a organizzare, sto facendo migliaia di cose. Quindi mentalmente non sono sul match, infatti sabato dovevo ripartire, dovevo andare a Bologna per fare una settimana di sparring. Appello che faccio ai cotonesi, mi raccomando, comprate il biglietto, ho fatto 5 euro gradinate, 20 euro sotto al ring, 5 euro gradinate per far sì che così abbia la possibilità di comprare il biglietto tutti quanti. Anche perché il mio avversario stanno preparando dei pullman con i propri tifosi che verranno a fare il tifo per il campione. Io spero che la mia città risponda venendo al Palazzo Alparamirone, venerdì 4 ottobre, a fare il tifo per me così possiamo difenderci dal loro tifo. Questo è un match difficilissimo, ma secondo me tutti i campionati italiani sono un match difficilissimo. Io con l'esperienza che ho la cosa più importante è arrivare preparati al 100%, poi logicamente vinca il migliore, ma la cosa importante è essere preparati, perché quando si è preparati non si ha paura di nessuno. Logicamente se è più bravo e vinci, stringi la mano e ti congratulo con lui. Questo è lo sport. Grazie. 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 Grazie.